In esclusiva satellitare su Sky, Italia 7 allarga i confini dell'informazione. Italia 7, canale 597, Sky. Buonasera, una striscia di sangue che ha colpito la Toscana che si è abbattuta in maniera tragica dal 1968 al 1985. I delitti del mostro di Firenze che spesso hanno cambiato il volto anche di una generazione e che ritornano protagonisti questa sera fra poco grazie ad un film che in anteprima vi proponiamo realizzato dal regista romano Paolo Cochi con il quale abbiamo un po' ricostruito questo lungo viaggio che parte da lontano, parte da una pistola Beretta calibro 22 proprio da Signa nel 1968 e si conclude nell'85 in quella piazzola di Scopeti dove furono uccisi i due turisti francesi. In questo film vedrete molte immagini di allora ma anche molte ricostruzioni cinematografiche insieme a testimonianze e a interviste inedite. Allora vi lasciamo subito a questa visione in anteprima del film del regista Paolo Cochi, il film che si chiama I delitti del mostro di Firenze. Buona visione. Buona visione. Buona visione. Buona visione. Buona visione. Buona visione. A te non piace mai niente.